Piazze, strade e palazzi, non una semplice riqualificazione della pavimentazione stradale, ma ciascuno dei 23 comuni abruzzesi del Club dei Comuni Più Belli d'Italia, rientrati nel Masterplan Abruzzo per la valorizzazione e lo sviluppo turistico, ha scelto accuratamente il proprio angolo da recuperare, riqualificare e ammodernare. Sono proprio i piccoli comuni del Club dei Borghi Più Belli d'Italia, i protagonisti di un progetto unitario che hanno presentato alla regione tutti insieme e che ha come obiettivo lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile attraverso il recupero delle aree interne e costiere dei piccoli comuni. Interventi mirati, con il finanziamento del Masterplan, a recuperare angoli identitari dei borghi, luoghi storicamente importanti di cui nel tempo si è persa la memoria e che torneranno alla luce nel 2019. Interventi che potranno aiutare anche il rilancio delle micro imprese locali che sono quasi sempre a conduzione familiare e artigianali. I 23 progetti sono stati presentati all'emiciclo, stringenti le tempistiche, la progettazione entro la fine di dicembre, mentre la realizzazione dovrà concludersi nel 2019, sotto lo stretto controllo di un comitato scientifico e tecnico. Intanto i comuni si preparano anche ad accogliere i turisti per le festività natalizie, con un calendario fitto di attività, spettacoli ed eventi pubblicizzati sul sito dei borghi più belli d'Italia. Abbiamo intrapreso un cammino però diverso, abbiamo voluto noi presentare progetti di riqualificazione dei borghi che avessero all'interno non la semplice riqualificazione della pavimentazione stradale. Abbiamo voluto mettere in evidenza con questi progetti il recupero di luoghi storicamente importanti di ciascun borgo che nel tempo ci si è dimenticato la sua funzione e la sua strategicità anche rispetto ai libri di storia che parlano di questi angoli di borgo e che così torneranno alla luce e saranno sicuramente attrattivi per i turisti. Quali sono le linee guida del masterplan? Quali sono i fondi? Quanti soldi vanno a ciascun comune? e i requisiti, anzi i limiti da rispettare per fare un lavoro che sia omogeneo fra tutti e 24 i comuni? Intanto la somma è di 140 mila euro per ogni borgo e la somma complessiva per il club dei borghi dell'Abruzzo è di circa 3 milioni e 2. Noi abbiamo individuato chiaramente nell'accordo masterplan una serie di tempistiche più che interventi ma le tempistiche prevedono appunto la progettazione in questo anno e l'esecuzione delle opere nel 2019. Noi saremo competitivi anche nelle procedure celere che abbiamo attivato perché ci consentirà anche di fare un consuntivo dei lavori realizzati. Noi torneremo a parlare dei borghi mettendo in evidenza quello che era prima dell'intervento e quello che sarà dopo l'intervento. Il masterplan accrescerà ulteriormente l'attrattività dell'Abruzzo e i borghi in quanto rete contribuiranno a questo innalzamento. I comuni si sono dovuti mettere al lavoro, hanno chiesto aiuto anche a dei tecnici, a degli specialisti? Ma sì, senz'altro. Ogni comune si è sentito stimolato a progettare secondo anche le caratteristiche proprie e anche le idee di identità specifiche. In questo senso mi sembra che si è mosso anche un mondo di progettisti dei territori che hanno accentuato questa caratteristica della progettazione finalizzata alla bellezza del proprio territorio. In questo senso c'è stato un momento virtuoso che è coinvolto i borghi che sono parte dell'Abruzzo. L'obiettivo è sempre quello di tutelarli, di evitare di bloccare lo spopolamento, questo stilicidio che va avanti ormai da 20 anni. Assolutamente sì. In questo senso la formula che si è pensata di attivare in quanto club dei borghi è quella di non solo certificare le bellezze, perché in Abruzzo per esempio siamo pieni di bellezza come tutta l'Italia, quanto di affermare che i borghi vengono certificati e manterranno delle caratteristiche di unicità, nel senso che non creeranno delle situazioni di dispersione, di disgregazione, di bruttezza. Quindi la certificazione della bellezza è un elemento aggiuntivo rispetto al fatto che l'Abruzzo è comunque una regione di bellezze oggettive. Presidente, lei ha evidenziato il fatto che questa volta le proposte vengono dal basso, quindi sindaci, comuni e protagonisti, non finanziamenti a pioggia. Eh sì, così si fa, c'è un territorio che fa un progetto e quindi chiede alla regione se va bene, ma qui si tratta di un lavoro d'insieme, di una squadra che valorizza l'intero territorio regionale. La nostra comunità, le bellezze dell'Abruzzo, 23 comuni, i borghi più belli d'Italia che si mettono insieme, propongono un progetto unitario per valorizzare alcune loro caratteristiche che sono all'interno di ogni singolo comune. La regione giustamente, doverosamente ha accolto questo progetto e ha concesso questo finanziamento. Non è tanto, 140 mila euro a comune, borgo più bello d'Italia e 23 sono in Abruzzo, si deve fare ancora molto di più. È un progetto che nasce dal basso, così bisogna fare, quando si parla di cittadinanza attiva qua si parla di sindaci attivi, quindi la sussidiarietà per loro è un dato di fatto oramai compiuto e quindi la regione ne prende atto. E perché no nel futuro pensare anche a programmare delle visite con la stampa estera in modo tale da valorizzare questi 23 comuni, che rappresentano non solo il loro piccolo territorio, ma rappresentano l'emblema dell'Abruzzo che è dotata di piccoli comuni che sono delle perle incastonate soprattutto nella montagna abruzzese. Ci sono anche i comuni che guardano sulla costa, anche quelli hanno la loro particolarità, quindi un Abruzzo completo che può fare bella mostra per attrarre turismo, soprattutto per valorizzare la qualità della vita che è altissima nella nostra regione. Dopo una serie di indagini che abbiamo fatto delle bellezze del centro storico del borgo di Castel del Monte abbiamo scelto di ristrutturare e ripristinare un'area che è dedicata ai caduti di Marsinelle. Già l'abbiamo fatto nel 2008, nel cinquantesimo anniversario della tragedia di Marsinelle, dove c'è sia la piazzetta dedicata a Marsinelle ma anche il monumento all'emigrante e alla pastorizia. Il nostro borgo che è una storia, una cultura, una tradizione ormai millenaria della pastorizia era abitato da quasi 4.000 persone. Oggi purtroppo è vuoto e quindi era necessario riportare alla luce quella che è la vera storia del borgo. Quindi con questa valorizzazione che faremo di quest'area ognuno che arriverà e passare ricorderà quelle che sono le radici storiche del nostro paese. Che cosa manca invece a un comune come Castel del Monte ma anche a tutti quelli del circondario, tutti i limitrofi per poter avere una qualità della vita più alta? Sappiamo insomma che c'è lo spopolamento, mancano le infrastrutture, i collegamenti con le città. Manca sì, questo che hai detto è la prima cosa, le infrastrutture che noi cercheremo di fare con l'accordo di programma quadro con i fondi del terremoto, ma manca una progettualità e mi auguro che il nuovo consiglio regionale che si insederà, il nuovo presidente della regione che si inserirà, ecco, incomincia a ragionare in un modo diverso, cioè in aree progettuali, non di un singolo comune, i soliti fondi a piogge, ma individuare quali sono le difficoltà, le esigenze di un'area che può essere la nostra che è l'area del Gran Sasso, quindi comprende un bel bacino e quindi andare a finanziare dei progetti specifici che servono per valorizzare l'area e per ridare posti di lavoro ai giovani, questa è la cosa fondamentale. C'è stata anche la rivista Forbes che ci ha collocato al sesto posto e io mi aspettavo il primo, ma comunque scherzi a parte, stiamo cercando di far conoscere la città Sant'Angelo ma non solo, anche tutto l'Abruzzo perché merita che l'Abruzzo intero sia la ribalta nazionale e internazionale. Un progetto come quello richiesto dal Masterplan Abruzzo come è stato elaborato? È stato elaborato riportando una delle porte più belle, la porta Sant'Antonio allo splendore che aveva in passato, un ingresso particolare pedonale della città che verrà ripristinato con una parimentazione pietra e mattoni come già abbiamo fatto nelle altre zone del comune. Per Guardia Grele un progetto che parte dal rifacimento di un pezzo di corso, perché proprio da qui? Sì, diciamo che il borgo è essenzialmente la parte centrale della città e la storia di Guardia Grele si concentra, nasce soprattutto intorno all'arteria principale, a questo asseviario principale, pedonale e anche parzialmente carrabile che attende da tempo di essere riqualificato. La disponibilità finanziaria messa nelle nostre mani grazie al Masterplan si unirà ad una risorsa più ampia perché noi prevediamo, grazie alla società del servizio idrico, il rifacimento della rete dell'intero centro storico e quindi in quella occasione ci sarà anche questa riqualificazione quindi con una nuova pavimentazione. È un progetto che prevede la riqualificazione di una piazzetta, Piazza Marconi, antistante proprio il centro storico, l'ingresso del centro storico dove ci sarà il rifacimento della pavimentazione, nuova illuminazione, la piantumazione di alcuni alberi e quindi sarà nel complesso riqualificato questo spazio. Questo progetto si connette alla ricostruzione perché noi purtroppo usciamo dal sisma del 2009, nuovamente nel 2016 abbiamo avuto nuovi danni quindi abbiamo la necessità di ricostruire velocemente il nostro centro storico principalmente. Civitella del Tronto, Assessore, quale progetto avete pensato di estrapolare, di riqualificare? Civitella del Tronto è nota per la sua fortezza, la fortezza spagnola, poi borbonica che è uno dei monumenti più visitati da Abruzzo, ma noi abbiamo voluto dare al turista qualcosa di più, cioè abbiamo previsto la riqualificazione di tutte le vie di accesso alla fortezza, cioè l'antico assalto al forte, perché Civitella non era solo fortezza, era una città fortezza, cioè la difesa veniva fatta dal paese, dal borgo, che è un borgo ed è ancora un borgo fortificato. Santo Stefano di Sessanio dà importanza all'accoglienza degli ospiti che vengono, sono tantissimi e soprattutto nei weekend sono degli ospiti che hanno bisogno di sostare anche per sola la giornata, quindi l'accoglienza la facciamo proprio dalla strada. Creare un parcheggio importante proprio a ridosso del borgo che dà la possibilità di lasciare la macchina e poi con tutte le associazioni che si occupano dell'accoglienza appunto raggiungere il centro storico comodamente. Il borgo montano è chiaramente impervio purtroppo anche per i portatori di handicap, quindi da parte nostra creare l'accoglienza anche sotto questo punto di vista perché è importante che anche loro abbiano modo di visitare il nostro borgo che perché ciottolato ha già delle difficoltà, quindi noi finché possiamo riusciamo ad accoglierli nel miglior dei modi. Per Pretoro abbiamo pensato di riqualificare Piazza Dietrocorte e Salita Castello. Diciamo che Pretoro come tutti i paesi di impostazione medioevale ha pochi spazi dove poter vivere tutti quanti assieme e Piazza Castello rappresenta sicuramente il luogo di aggregazione principale del nostro paese. Era una piazza che aveva necessità di essere riqualificata anche un pochino adeguata e per quello abbiamo deciso di farlo. È anche il simbolo diciamo dell'unità della collettività della comunità di Pretoro, è il luogo dove noi ci ordiniamo nella festa patronale, è il luogo dove facciamo concerti, dove ascoltiamo, dove d'estate facciamo i giochi con il parroco e dove si svolge principalmente la vita collettiva e quindi questo voleva essere un segnale di riqualificare quella piazza come per ridare vita, far rinascere anche le persone che vivono in questo piccolo borgo. In questi anni abbiamo lavorato tantissimo per la riqualificazione del centro storico ed effettivamente il centro storico lo abbiamo trasformato completamente. Manca un ultimo pezzo, un 200 metri diciamo di strada dove dobbiamo fare una riqualificazione del diciamo proprio del manto stradale togliendo l'asfalto e mettendo il San Pietrino uniformemente a tutto quanto quello che abbiamo già fatto. Con 140 mila euro rifaremo questa riqualificazione del centro storico e con questo chiudiamo l'anello perché Rocca San Giovanni è un paese diciamo molto bello da questo punto di vista e che merita di essere visitato soprattutto con quest'ultimo intervento lo sarà ancora di più. Quale progetto per OPI? Allora OPI riqualifica una piazza centrale dove c'è un antico serbatoio dell'acqua del 1903. La piazza è il simbolo del paese perché è dove si andava a prendere l'acqua, dove la gente si riunisce ancora oggi, dove si fanno tutte le feste del paese. OPI è un paese piccolino di 407 abitanti, però è anche il centro e il fulcro del paese. Va riqualificata perché è da risistemare tutta la piazza con i cosiddetti consiglieri che sono degli obelischi che sono sui lati e la parte cementizia va tolta e vanno messe gli stipidi in pietra. Volevo ricordare che OPI oltre a far parte dei borghi più belli d'Italia è il paese e il borgo che ha dato i Natali al Parco Nazionale d'Abruzzo nel 1921. Grazie.